fiodor fiodorovic sigaev subito dopo aver sorpreso la moglie in fragrante adulterio si trovava nel magazzino di armis musks e c e sceglieva una rivoltella che facesse al suo caso il suo volto esprimeva collera tristezza e una irrevocabile decisione io so che cosa devo fare pensava le basi della famiglia sono oltraggiate l'onore è calpestato nel fango il vizio trionfa e perciò io come cittadino e come uomo d'onore devo apparire come vendicatore ucciderò prima lei e l'amante e poi me stesso egli non aveva ancora scelto la rivoltella e non aveva ancora ucciso nessuno ma la sua immaginazione già gli figurava tre cadaveri insanguinati crani fracassati fuoriuscita di cervelli baraonda una turba di sfaccendati l'autopsia con la malignità dell'uomo offeso egli si immaginava l'orrore dei parenti e del pubblico l'agonia della traditrice e mentalmente già leggeva gli articoli di fondo che trattavano del dissolvimento delle basi familiari il commesso di negozio una mobile figurina di tipo francese con la pancetta in panciotto bianco gli metteva davanti le rivoltelle e sorridendo rispettosamente e stropicciando i piedi diceva io vi consiglierei messie di prendere questa eccellente rivoltella il sistema smith e vesson l'ultima parola della scienza per le armi da fuoco a triplice funzionamento con estrattore colpisce a 600 passi calibro medio richiamo messie la vostra attenzione sulla purezza delle rifiniture è il sistema più in voga messie ogni giorno ne vendiamo una decina per i malfattori i lupi e gli amanti ha il calibro più giusto e sicuro colpisce a grande distanza e passa da parte a porte mogli e amante per quanto riguarda i suicidi messie io non conosco il miglior sistema e commesso alzò e abbassò il cane soffiò nelle canne prese la mira e fece finta di soffocare per entusiasmo guardando il suo volto affascinato si poteva pensare che gli volentieri si sarebbe cacciato una palla in fronte solo che avesse posseduto una rivoltella di un sistema così eccellente come la smith e wesson e quanto costa domandò siga f 45 rubli messie per me è caro in tal caso messie vi propongo un altro sistema più economico ecco non vorreste vederlo abbiamo una scelta colossale a prezzi differenti per esempio questa rivoltella sistema le foch costa solo 18 rubli ma il commesso fece una smorfia di disprezzo ma messie questo sistema è già invecchiato lo comprano ora soltanto gli intellettuali proletari e le psicopatiche uccidersi o uccidere la moglie con una le foch è oggi un segno di cattivo gusto il bon ton riconosce soltanto la smith e wesson io non ho bisogno né di uccidermi né di uccidere menti siga e faciliato compro la rivoltella semplicemente per la campagna per spaventare i ladri a noi non interessa che scopo voi la comperiate un commesso sorriso abbassando gli occhi modestamente se in ogni singolo caso volessimo ricercare la ragione messie ci toccherebbe chiudere il negozio per spaventare i ladri la le foch non serve messie perché ha un suono leggero e sordo ma io vorrei proporvi la comune pistola capsula mortimer cosiddetta da duello e perché non sfidarlo a duello? balenò in testa a sigaef dal resto troppo onore simili bestie ci uccidono come i cani il commesso ricirandosi con grazia e sgambettando senza cessare di sorridere e di ciarleare gli mise innanzi un mucchio di rivoltelle più appetitosa e suggestiva di tutte occhieggiava la smith e wesson sigaef prese in mano una rivoltella di questo sistema si mise a fissarla ottusamente e si sprofondò nei suoi pensieri nella sua immaginazione vedeva come fracassava crani come il sangue scorreva a fiumi sul tappeto e sul pavimento come la traditrice morente agitava una gamba ma per la sua anima sdegnata questo era troppo poco i quadri sanguinosi, le grida lamentose e l'orrore non lo soddisfacevano ecco, ucciderò lui e me stesso, pensò ma lei la lascerò vivere che si strugga per i rimorsi di coscienza e per il disprezzo di chi l'è intorno questo, per una natura così nervosa come lei, è molto più tormentoso della morte ed egli si raffigurò ai propri funerali lui, l'offeso, giace nella bara con un mite sorriso sulle labbra e lei, pallida, tormentata dai rimorsi segue la bara come niobe e non sa come sottrarsi agli sguardi di disprezzo annientatori che le lancia addosso la folla indignata vedo, monsieur, che vi piace questa smith e wesson? il commesso interruppe le sue fantasticherie se vi sembra cara, permettete, vi farò uno sconto di 5 rubli del resto abbiamo degli altri sistemi a minor prezzo la figurina alla francese si girò graziosamente e trasse dalla scansia ancora una dozzina di fondine con rivoltelle ecco, monsieur, prezzo 30 rubli non è caro, tanto più che il cambio è sceso terribilmente e le tariffe doganali, monsieur, aumentano a ogni ora monsieur, lo giuro davanti a Dio io sono conservatore, ma comincio già a mormorare scusate, il cambio e le tariffe doganali hanno fatto sì che adesso le armi da fuoco non le possono comprare che i ricconi ai poveri sono rimaste soltanto le armi di Tula e i fiammiferi col fosforo ma le armi di Tula sono un disastro spari con una rivoltella di Tula contro la moglie e colpisci te stesso in una scapola Sigaev a un tratto sentì dispetto e dolore al pensiero che egli sarebbe morto e non avrebbe visto i tormenti della traditrice la vendetta è dolce soltanto quando si ha la possibilità di vedere i frutti tangibili ma che gusto starsene nella bara e non aver coscienza di nulla non è meglio che faccia così e gli cambiò idea ucciderò lui, poi andrò ai funerali vi darò un'occhiata e poi mi ucciderò però prima dei funerali mi arresteranno e mi toglieranno l'arma allora così ucciderò lui, lei rimarrà in vita io, io per un certo tempo non mi ucciderò e andrò in prigione di uccidermi avrò sempre tempo l'arresto ha dunque di buono che in istruttori avrò la possibilità di svelare alle autorità tutta la bassezza della sua condotta se io mi uccido lei con la sua naturale falsità e impudenza incolperà me di tutto e la società giustificherà il suo agire e magari si burlerà di me ma se io rimango in vita allora dopo un minuto gli pensò sì se io mi ucciderò forse si incolperà a me e mi si sospetterà di un sentimento meschino del resto perché uccidermi? questa è una in secondo luogo uccidersi significa essere vile allora ucciderò lui lei la lascerò vivere e io andrò sotto processo mi giudicheranno ma lei dovrà figurare in qualità di teste? mi immagino la sua confusione la sua vergogna quando lei interrogerà il mio difensore le simpatie del tribunale del pubblico e della stampa saranno certo dalla mia parte e gli rifletteva e intanto il commesso gli metteva davanti la merce e stimava il suo dovere a interessare il compratore ecco dei nuovi tipi inglesi ricevuti solo da poco tempo e gli ciallava ma vi avverto messie tutti questi sistemi impallidiscono di fronte alla Smith & Wesson giorni fa voi probabilmente l'avete già letto un ufficiale acquistò da noi una rivoltella sistema Smith & Wesson e gli sparò contro l'amante della moglie lo credereste? la palla lo passò da parte a parte forò poi una lampada di bronzo poi un pianoforte e rimbalzando dal pianoforte uccise un cagnolino e fece una contusione alla moglie il brillante effetto fa anche onore alla nostra ditta l'ufficiale ora è in carcere lo condanneranno certamente e lo manderanno ai lavori forzati in primo luogo noi abbiamo una legislazione troppo antiquata secondariamente messie il tribunale è sempre dalla parte dell'amante perché? è semplicissimo messie anche i giudici, i giurati il procuratore generale e il difensore vivono con le mogli altrui e saranno più tranquilli se in Russia vi sarà un marito di meno per la società sarebbe piacevole se il governo deportasse tutti i mariti nell'isola di Sakhalin oh messie voi non sapete quale indignazione è suscita in me l'attuale corruzione dei costumi amare una donna altrui è ora ammesso come fumare le sigarette e leggere i libri altrui ogni anno il nostro commercio peggiora questo non significa non significa che gli amanti diminuiscano ma significa che i mariti si rassegnano alla loro condizione e hanno paura del tribunale e dei lavori forzati il commesso si guardò attorno e mormorò ma di chi è la colpa messie? del governo andare a Sakhalin per una sborcacciona qualunque non è cosa ragionevole riflette Sigaev se andrò ai lavori forzati ciò darà la possibilità a mia moglie di sposarsi una seconda volta e di ingannare il secondo marito e si trionferà allora farò così lei la lascerò in vita e io non mi ucciderò e lui? lui pure non lo ucciderò bisogna escogitare qualcosa di più ragionevole e di più efficace ripunirò col mio disprezzo e solleverò uno scandalo con un processo di separazione è come si è un nuovo tipo disse il commesso togliendo dalla scansia una nuova dozzina di rivoltelle richiamo la vostra attenzione sull'originale meccanismo della chiusura a Sigaev dopo la sua decisione la rivoltella non serviva più ma il commesso sempre più ispirato continuava a mettergli innanzi la sua merce il marito oltraggiato sentì vergogna che il commesso per causa sua si fosse inutilmente affaticato inutilmente entusiasmato e avesse inutilmente sorriso e perduto tempo bene in tal caso brutto tornerò poi oppure manderò qualcuno egli non vide l'espressione del viso del commesso ma per attenuare almeno un poco il disagio sentì la necessità di comprare qualche cosa ma che cosa comprare? egli passò in rivista alle pareti del negozio cercando qualche cosa a buon mercato e fermò il suo sguardo in una reticella verde appesa presso la porta e questo? questo che cos'è? domandò è una rete per la caccia delle guaglie e quanto costa? otto rubli messie fatemene un pacchetto il marito offeso pagò gli otto rubli prese la rete e sentendosi ancora più offeso uscì dal negozio grazie a tutti